Lo stabilimento di Pomigliano, denominato Giabattista Vico, è uno degli stabilimenti di Stellantis che garantisce la sostenibilità. Uno dei concetti fondamentali che portiamo avanti è il concetto di economia circolare. Proviamo a tutti i costi di riciclare i nostri prodotti per cercare di farle diventare materie prime di altri processi. Ad esempio, i scarti di lavorazione di lamiera vengono portati in una fonderia e vengono fusi per diventare poi materia prima per altre tipologie di processo. Un altro concetto fondamentale che portiamo avanti è la biodiversità. Noi dobbiamo essere in grado di non impattare sull'ambiente circostante, sia nelle aree che sono all'interno dello stabilimento e sia delle aree che si trovano all'esterno dello stabilimento. Il nostro plant è caratterizzato da alcune aree verdi che permettono la nidificazione e anche la residenza di molte specie di uccelli. Altro concetto importante che portiamo avanti è l'indicatore che viene denominato il Green Factory, perché racchiude all'interno tutti i concetti fondamentali dell'ambiente. L'emissione della CO2, la quantità di materiale che andiamo a scartare. Questo indicatore ci permette di misurare la percentuale della nostra capacità di essere green. Anno su anno abbiamo migliorato la nostra capacità del 10% e puntiamo a diventare sempre più sostenibili sul nostro territorio. Grazie Grazie Grazie